Bici in Città Sono state 90 le città coinvolte in questa domenica, unite per portare nelle strade e nelle piazze di tutta Italia la voce di chi vuole utilizzare le due ruote in sicurezza attraverso percorsi protetti. Bici in Città, giunta alla 29esima edizione, è una festa di sport per tutta la famiglia, una biciclettata non agonistica e aperta a tutti, per chiedere aria pulita e città più vivibili. La manifestazione proseguirà nelle domeniche di maggio e giugno con qualche coda sino a settembre. Alla fine saranno 150 le città che complessivamente parteciperanno all'edizione 2014. Bici in Città e anche solidarietà. In ogni tappa, infatti, verranno raccolti fondi per lo sport di base in Sardegna, in particolare Olbia, colpita dalla tragica alluvione dello scorso novembre. Bici in Città e anche solidarietà.